La leadership credo che è una cosa che determina il successo o il fallimento in tutto quello che uno fa, per quello dobbiamo impegnarsi al massimo per poter fare le cose in maniera più giusta possibile. Il mio segreto per il mantenimento è sempre avere le motivazioni giusti e soprattutto cercare sempre dei stimoli che ti permettono di poter dare il meglio. La motivazione è una cosa fondamentale in tutto quello che si fa, perché quando uno è motivato riesce sempre a arrivare al successo. Credo che la gestione di una squadra, la prima cosa che deve avere un capitano è la fiducia dei suoi compagni, la squadra lo segue e soprattutto è una bellissima responsabilità che uno ha. Ognuno di noi nasce con un talento. La cosa che lo rende più felice dopo, in tutto quello che si fa, lo deve trasmettere. Le sconfitte e le vittorie si devono gestire con un certo equilibrio. Io credo che se la squadra riesce a capire questo, sicuramente lavorerà più tranquilla, più serena e deve sapere che fa parte del mestiere che uno fa. La squadra in trasferta è una cosa che ci diverte, perché ci permette anche in certi posti, magari che uno va lontano, di stare più tempo insieme e di fare gruppo. L'impegno del sociale è uno che nasce da dentro di ognuno di noi. Io credo che non ci sia cosa più bella che poter aiutare a quelli che hanno più bisogno. E se uno lo fa con il sentimento, credo che ci ha doppio valore. Io credo che senza sacrificio non si ottiene nulla. Il sacrificio uno lo deve fare per qualsiasi cosa che fa. Allora, quando dopo arrivano i successi, diventa più bello poter festeggiare e sapere che ha fatto di tutto e si ha sacrificato tantissimo per poter ottenere questi traguardi. Allora, quando dopo arrivano i successi, diventa più bello poter festeggiare.